C'era tanta gente a dare l'addio. L'ultimo saluto a Sofia Perelli, la ragazza morta dopo giorni di agonia all'ospedale di Ancona. I funerali si sono tenuti oggi alla chiesa del quartiere di Monteluce a Perugia. Un lungo applauso all'uscita del fenetro. Silenzio, tanto silenzio e occhi rossi tra le lacrime di mamma Valeria, papà Claudio, il fratello Francesco, la sorella Vittoria e altri parenti, gli amici e chi ancora non crede che sia successo quello che è accaduto. A Sofia, stellina bella, così come hanno scritto sui social i suoi cari. La ragazza che lavorava al supermercato Gaggi di via Ruggero d'Andreotto era rimasta vittima di un tragico incidente mentre si trovava al mare, a Sirolo, nelle Marche, si era gettata in acque ed era finita contro uno scoglio. Condizioni da subito apparse grave il personale sanitario che l'aveva soccorsa e l'aveva trasportata in ospedale ad Ancona. Per sei lunghi giorni Sofia ha lottato tra la vita e la morte in rianimazione cercando di sopravvivere. Ma nella serata di mercoledì il quadro clinico è peggiorato e non c'è stato più nulla da fare.